Io credo che non bisogna mai smettere di pensare in grande e voglio che non smettano di pensare in grande mai. Che il coraggio, l'ambizione, la lealtà dei rapporti siano le cose per le quali, le vertù per le quali costruire le certezze di ognuno di noi. Quindi i rapporti tra di noi e ciò che andremo a fare. Perché tanto, se non sarà oggi sarà domani, se non è domani dopo domani, fra un mese, fra un anno, fra cinque anni e chi riesce a perseverare nel tempo e con un'ambizione, con una sana lealtà, prima o dopo raggiunge le cose.